Voglio dire chiaramente che aprire un tavolo, un vertice di governo sul tema salario minimo, flat tax e le nostre proposte che abbiamo a cuore come gli aiuti alle famiglie che fanno figli e l'intervento sulle nomine della sanità in Italia significa anche discutere di coperture ed è chiaro che chi propone porta anche le coperture. Detto questo per me l'obiettivo è non far aumentare l'IVA e abbassare le tasse agli italiani. Quanto riusciremo a farlo dipenderà dal lavoro che adesso inizia, perché il lavoro di scrittura di una legge di bilancio inizia proprio in questi mesi, sulla lotta all'evasione seria e sulla spending review. Questi sono due obiettivi che ci dovremmo dare e su cui non dovremmo fallire come invece hanno fallito in precedenza tutti gli altri governi. Una seria lotta all'evasione passa per una lotta alla grande evasione col carcere per gli evasori che è un grande deterrente, il carcere per i grandi evasori è un grande deterrente che è dimostrato ci aiuterà sicuramente a recuperare risorse, incentivi per le transazioni elettroniche e lavorare ad una serie di strumenti da dare alle forze dell'ordine per fare maggiori accertamenti sui grandi evasori. Poi è chiaro ed evidente che si può anche parlare di sforare il 3%. Mi permetta soltanto una battuta, non credo che Orban e gli altri paesi dell'est Europa siano così d'accordo. Quindi su questo invito a coalizzarci tra forze politiche che tengono all'Italia. Anche se parteremo chiaramente a due gruppi parlamentari distinti e separati, non è il caso di andarsi ad alleare con chi già quando volevamo fare il 2-4 o lo stesso 2-0-4 aveva mal di pancia e chiamava Juncker dicendo che l'Italia doveva rispettare tutti i vincoli di bilancio che gli erano stati imposti. Io credo che si può parlare senz'altro di sforare il 3%, ma prima occupiamoci e assicuriamoci del fatto che all'interno del nostro bilancio dello Stato abbiamo recuperato i 300 miliardi di euro di evasione fiscale, abbiamo abbassato i costi della corruzione e abbiamo recuperato i miliardi di euro che vengono dalla spending review.